Un dio ecologico non è una provocazione. I cristiani nella storia hanno attribuito alle creature un valore solo strumentale. Beh, è ora di cambiare. La terra è l'unico luogo, per quel che si sa, in cui esiste la vita. Già, ma la terra è in pericolo. Che cosa possono offrire le religioni? Il cristianesimo, insieme ad altre fedi monoteistiche, è convinto che un dio vivente abbia creato e ami tutto il mondo. Ci rendiamo conto che questa convinzione è un potenziale rivoluzionario nel motivare la cura della terra. Eppure molti cristiani non la curano ancora. Il mistero incomprensibile che chiamiamo dio è pura vitalità esuberante, è sorgente, traboccante di essere, senza origine, limitazione, senza fine. La creazione è in corso, è in atto. Il dio vivente crea continuamente. Il creatore non è uno scultore che crea la statua e poi la lascia lì. Ma piuttosto è, diciamo, come un cantante, un musicista che canta o suona la sua canzone e questa dura per tutto il tempo in cui lui la canta o la suona. Insomma, la creazione è una relazione continua, permanente tra creatore e creatura e per un unico motivo, l'amore. Certo, il prezzo è alto. La morte è parte strutturale della vita che emerge in mezzo a un processo perpetuo di dissoluzione. Dove si trova Dio in questo travaglio? La fede biblica risponde Dio è qui, con le creature schiacciate dal dolore e dalla morte. Perché lo spirito creatore è dentro la sofferenza e genera guarigione, genera vita nuova. Gli esseri umani hanno in comune con le altre specie molto più di quanto li separi da esse. Ed è una delle benedizioni del nostro tempo che gli studi scientifici giungano a una conclusione simile attraverso i propri metodi specifici. Esiste una sola comunità di vita sulla Terra, in termini scientifici potremmo dire c'è una sola biosfera. Se c'è un fattore di separazione nocivo, questo è la gerarchia dell'essere. Come dirlo in due parole. Più un essere possiede spirito e più è vicino alla divinità. Più invece è materiale, più ne è distante. Gli uomini maschi si attribuiscono, ad esempio, un grado di spirito maggiore rispetto alle donne. Gli uomini bianchi europei se ne attribuiscono un po' di più rispetto ai popoli africani e amerindi. È spaventoso rendersi conto di quanto profondamente la gerarchia dell'essere fondata sulla superiorità del maschio bianco abbia condizionato tutto il pensiero cristiano. Non è un gran ragionamento, anche perché provate a rimuovere gli alberi. Gli esseri umani così spirituali moriranno soffocati. Rimuovete gli esseri umani e gli alberi se la caveranno benissimo, anzi meglio, perché non li taglieremo più. Bisogna davvero convertirci alla terra. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Tutte avanzano o avanziamo verso la meta comune che è Dio, così scrive Papa Francesco nella Laudato Sia il numero 83. Una signora mi chiede vedrò il mio cane in paradiso. Beh, noi esseri umani non dobbiamo pensare di essere i soggetti esclusivi dell'amore divino. Nella comunità della creazione condividiamo tutti l'identità fondamentale di essere creature amate. Se tutti conoscessimo il Dio vivente come creatore appassionato, amante della terra e di tutte le sue creature e tra cui gli esseri umani, che mondo diverso sarebbe? E con un Dio pensato in un modo diverso, noi popolo di Dio saremmo un popolo diverso. Allora l'azione a favore della giustizia ecologica fluirebbe spontanea dalla nostra vita cristiana e non come qualcosa di forzato.